quindi do il benvenuto a tutti i partecipanti e benvenuto soprattutto a massimo bassi che formatore del campus or academy per la robotica e l'automazione oggi vedremo con lui e industri 4.0 idee di lezione tra automazione e simulazioni industriali per istituti tecnici quindi do la parola adesso a massimo e iniziamo questo momento di formazione ti ringrazio allora mi presento mi puoi confermare che mi senti per favore va benissimo lo scarmo condiviso lo vedete sì 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 ti ringrazio gentilissimo allora buongiorno mi presento mi chiamo massimo bassi sono docente di un istituto tecnico superiore inoltre sims sc e e anche per campus or per quanto riguarda automazione industriale e robotica allora oggi vorrei parlarvi di uno definiamolo così di uno strumento didattico molto interessante e utile per affrontare a scuola i temi inerenti alle automazioni industriali in particolar modo al mondo dell'industria 4.0 in cui i modelli di posizione proprio attiva principali di industria 4.0 sono sempre più automatizzate e interconnesse e i prodotti sempre più intelligenti e comunicanti grazie ad una continua tracciabilità dei processi tale questo sistema da creare una gestione delle informazioni collettiva condivisa e collaborativa perciò i sistemi automatizzati la cosa importante il messaggio che lo far passare oggi è che i sistemi automatizzati non saranno più visti come delle realtà isolati bensì come delle realtà definiamo le multifunzionali molto flessibile aperti a sistemi tipi tipo aiuti ovvero internet of thing cloud connector comunicazione basata sul protocollo opc ua che sarebbe un protocollo comune l'open platform communication unified architettura eccetera perciò quello che a me interessava a fare adesso con voi era una panoramica per scoprire la costituzione e le potenzialità dell'industria della stazione industria 4.0 e poi faremo anche alcune dimostrazioni pratiche allora innanzitutto se iniziamo a vedere la prima foto diciamo che la stazione campus industria 4.0 come si può vedere già da questa immagine è realizzata con i materiali della fischer technique che per chi li conosce da sempre sa che sono sinonimo di quali tre l'integrazione di diversi componenti metallo tipo del braccio robotico o tutti quanti i laterali di vari nasce esportatori o lo scheletro del forno eccetera eccetera che poi vedremo in particolar modo pezzo per pezzo ok se diciamo l'integrazione di questi componenti in alluminio assicurano una robustezza della struttura e chiaramente anche dando un aspetto che non guasta mai decisamente più professionale ok altra cosa importante di questa stazione è quella che essa funziona 24 volt e visti i bassi assorbimenti può essere alimentata direttamente da qualsiasi pelici con auto putti digitali o l limitato assorbimento di corrente inoltre prima di iniziare la carrellata possiamo iniziare subito allora vediamo come prima cosa ok la stazione è divisa in varie sessioni analizziamo una per una queste sessioni velocemente visto il tempo che abbiamo a disposizione e vediamo di capire quali sono le potenzialità nell'insieme di queste sessioni ok allora la prima sezione che andrà analizzare riguarda degli ingressi fisici sono la stazione dotata di due switch perciò oltre ad essere gestita chiaramente da un touch panel o da qualsiasi sistema di supervisione abbiamo anche a disposizione due pulsanti fisici completamente configurabili aperti o chiusi per iniziare diciamo i primi anche semplici utilizzi ok dopo di che se proseguiamo abbiamo la prima barra sessione che una simulazione di lavorazioni multiple ovvero abbiamo un nastro trasportatore con tre fotocellule abbiamo due lavorazioni una sezione multiple ovvero abbiamo una stazione un'isola di lavoro che simula una fresatura e un'isola di lavoro che è questa qua che simula praticamente diciamo una saldatura perciò qua vediamo che oltre alla simulazione della saldatura che poi vedremo come funziona abbiamo anche la discesa di un cilindro perciò abbiamo già la gestione di un segnale elettropneumatico ok allora poi abbiamo l'altra sezione a un'altra cosa importante riguardo a questa prima sezione è quella che in questa parte lo vediamo meglio da questa foto in questa parte stavo dicendo lo vediamo meglio da questa foto c'è uno switch un counter cosa serve questo questo serve già diciamo per un primo posizionamento del pezzo sul nastro ovvero potrebbe già essere un'introduzione molto valida al discorso del posizionamento assi fatto con gli encoder ovvero utilizzando tipo un conto impulsi di solito interno a un qualsiasi controllore up down che conta nel fronte di salita nel fronte di discesa possiamo fare di posizionamento assi diciamo un po rudimentali però molto utili per avere un approccio a quello che può essere il studio degli encoder ok ecco poi abbiamo un'altra sezione che è questa questa qua praticamente è sempre una lavorazione che simula diciamo una macchina cnc non si vede molto bene qua però vediamo poi nella dimostrazione d'accordo questa macchina è munita di due utensili che oltre a lavorare come una diciamo una lavorazione semplice essere usata come una lavorazione semplice possiamo implementare anche diciamo chiaramente dopo un certo percorso didattico lo studio di segnali pvm dati da questo servo motore perciò possiamo fare il cambio degli utensili scusate possiamo fare il cambio degli utensili grazie al segnale pvm non è inizialmente necessario perché questo perché noi possiamo utilizzarlo come una stazione semplice come una lavorazione semplice ok infine per proseguire abbiamo per mettere in comunicazione le due sessioni ovvero nel particolare la comunicazione la sessione diciamo dove c'è la lavorazione a fresatura e saldatura con la pressione dove c'è la stazione cnc d'accordo abbiamo un carrello che sarebbe questo abbiamo un carrello trasportatore perciò questo qua è già un primo aspetto molto importante di questa stazione per questo questa è una stazione multifunzionale perché perché se noi vediamo nell'insieme questa stazione i due nastri potevano le due sessioni che abbiamo citato precedentemente potevano già essere messi in comunicazione al braccio robotico d'accordo perché il braccio robotico come vedremo poi nella dimostrazione può agire sia su questa sezione sia su questa oltre che nello scivolo che poi vedremo in particolare anche nel magazzino scivolo d'ingresso d'uscita però se noi mettiamo in comunicazione queste due sessioni per fare diciamo una sequenza automatizzata completa un ciclo completo di lavorazione se le mettiamo in comunicazione tramite il braccio robotico dobbiamo già essere a conoscenza di come funzionano gli encoder perciò diciamo studi un po avanzati mentre con questo nato trasportatore d'accordo questo carrello trasportatore possiamo tranquillamente fare degli movimenti delle movimentazioni perciò fare già dei cicchi con dei cicli completi che iniziano ad esempio dalla sessione 1 fino arrivare a sessione cnc già senza utilizzare diciamo il braccio robotico perciò già qua noi potremmo già ricavarci prima cosa tipo già una ventina di esperienze e che non è male ok benissimo proseguiamo oltre andiamo a quello che è eccolo qua l'altra sessione che è il trattamento termico che questo questa sessione prevede la simulazione di un trattamento termico qua c'è l'attivazione del trattamento termico ci sono queste due segnalazioni premetto ricordo una cosa che ogni lavorazione e ogni movimentazione tipo del braccio robotico o del carrello trasportatore sono sempre segnalate e sono configurabili da delle segnalazioni ok perciò per entrare in questo forno tramite diciamo lo spostamento del pezzo su questo naso trasportatore ok c'è diciamo una porta che funziona in maniera elettropneumatica perciò diciamo altro studio di segnali elettropneumatici d'accordo se vedete quando lo sfondo c'è tutta la zona elettropneumatica con le elettrovalvole ok infatti qua abbiamo per mettere in comunicazione la sessione cnc con la sessione forno abbiamo un manipulatore elettropneumatico ok allora il manipulatore elettropneumatico può essere usato anche come tutte le sessioni che abbiamo visto finora stand alone cosa vuol dire questo vuol dire che può essere usato per generare dei cicli elettropneumatici a prescindere dalla stazione campus industry 4.0 solamente per lo studio diciamo delle sequenze elettropneumatiche perciò sequenze semplici d'accordo sequenze con segnali bloccanti risolvibili con il metodo di fine corse in serie oppure con già il metodo della cascata ok eppure oppure ancora oltre possiamo studiare anche diciamo i segnali ripetuti perciò con sistemi tipo sequenziatori e sempre metodi di impianti in cascata ok perciò noi qua possiamo creare con questo manipulatore che praticamente formato da 123 cilindri quella ventosa ok possiamo creare dei nostri diciamo sequenze elettropneumatiche a prescindere tutto il resto perciò la potenzialità il potenzialità di di questa stazione è quella che ogni singola sezione può essere usata indipendentemente dalle altre e poi in ogni istante possono essere combinati assieme a 360 gradi e questo diciamo è una cosa notevole vista la flessibilità che offre ok poi se proseguiamo diciamo andiamo nella sezione quella un po più complessa che è praticamente quella del magazzino che è composta da un braccio robotico a tre assi d'accordo perciò rotazione asse orizzontale asse verticale e una ventosa che non si vede molto per lo sfondo bianco però poi vedremo come funziona d'accordo qua questo per il funzionamento di questo braccio robotico chiaramente è prevista la conoscenza e lo studio degli encoder ok braccio robotico può essere usato per stand alone anche questo ovvero per creare delle movimentazioni di posizionamento assi a prescindere dal resto della stazione campus industry 4.0 oppure chiaramente può essere integrata con alcune sezioni del sistema o con il sistema completo perciò anche qua una notevole flessibilità nell'operare infine vediamo un'altra cosa molto importante abbiamo un scivolo questo scivolo già diciamo nella stazione questo scivolo è già compreso e può essere composto sia come scivolo d'ingresso con una foto cellula già collegabile nella predisposizione che troviamo nel campus industry 4.0 ovvero l'alimentazione e il segnale della foto cellula d'accordo per utilizzare diciamo utilizzare questo scivolo come ingresso ovvero cosa potrebbe essere potrebbe essere che arriva un pezzo in ingresso la foto cellula lo rileva e parte una certa sequenza o più sequenze d'accordo oppure questo può essere utilizzato anche come scivolo di uscita infatti qua vedete che lo stesso scivolo con un apposito diciamo contenitore può essere invertito e collegato come scivolo di uscita tipo per dare avvio delle sequenze che terminano proprio con l'espulsione del pezzo della campus industry potrebbe essere una richiesta di un pezzo un prelievo dal magazzino determinate lavorazione e a fine lavorazione vengono praticamente espulse dal sistema perciò vediamo la grande flessibilità che è molto importante ultima cosa importante anzi penultima scusatemi riguardo sempre le sezioni della campus industry è il elevatore di colore il sensore di colore perciò qua parliamo di studio di segnali analogici perciò abbiamo studio di segnali digitali in ingresso in uscita i più semplici poi possiamo implementarlo con i segnali elettroponumatici perciò tutto studio delle sequenze elettroponumatici che possono essere stand alone come metto o integrate col sistema infine possiamo avere studio degli encoder d'accordo perciò altro step successivo studio degli encoder possiamo avere studio di segnali analogici grazie al sensore di colore e come metto prima nella stazione cnc studio di segnali pvm perciò treni di impulsi e quant'altro vediamo che quello che può offrire è molto completo dal punto di vista didattico per concludere la carrellata delle funzionalità abbiamo anche una sessione di segnalazioni che è questa oltre alle segnalazioni diciamo delle singole sessioni le segnalazioni delle singole movimentazioni abbiamo quattro segnalazioni generiche che possono essere configurate a piacimento come emergenza come stop come start e via dicendo ok la carrellata delle funzionalità è conclusa vi mostro un'ultima cosa che sarebbero le tre schede di interfaccia per collegare la campus industry o vario questo tutto le auto della macchina che chiaramente è riportato a chiare lettere sulle sul manuale di istruzioni possono essere collegate tramite questi connettori ad innestro con molla oppure tramite questi connettori flat come vedremo noi poi ok ecco che diciamo un po la carrellata che è un po la carrellata se diciamo di tutte quante le potenzialità e componenti di questa stazione adesso a questo punto iniziamo a vedere questa stazione dal vivo ecco questa è la stazione come si presenta allora spero che mi sentiate ancora bene perché devo un po spostarmi allora questa è la stazione è collegata ad un controllore d'accordo perciò abbiamo il PLC che questo i tre moduli di espansione abbiamo l'alimentatore che questo qua e infine abbiamo un sistema aiuti per quello che dicevamo prima per avere proprio o per fare ad esempio la tracciabilità dell'avanzamento delle fasi di lavorazione dei prodotti con analisi su cloud ad esempio ok allora una cosa importante che stavo che mi sono scordato di dire è quella che comunque per quelli che acquisteranno questa stazione e per quelli che hanno già acquistato sarà pronto a breve un prontuario con diversi esercizi fatti ok in cui chiaramente esercizi didattici spiegati bene passo per passo con tutte quante diciamo con le parti teoriche e svolgimenti pratici di questi esercizi ok ecco noi abbiamo collegato se riuscite a vedere abbiamo collegato il PLC la stazione tramite le schede che abbiamo stato prima con i collettori flat questi qua d'accordo e infine abbiamo anche facciamo così abbiamo collegato anche un touch panel d'accordo allora abbiamo collegato un touch panel e invece di usarlo fisicamente per comodità l'ho riportato in maniera virtuale sul diciamo su un tramite wincc su un touch panel virtuale perciò vedete che questo è lo stesso ad esempio se voglio entrare nel sistema di funzionamenti di taratura d'accordo posso premere di che sarebbe la stessa identica cosa di premere scusatemi di premere qua vedete che le facciate corrispondono perfettamente perciò noi al momento ci concentriamo sull'utilizzo del touch panel virtuale ok andiamo a inquadrare nuovamente la nostra campus industry 4.0 dovremo un po chiaramente adattarci ecco questo diciamo un po l'immagine d'insieme con il scivolo quello che dicevo io prima utilizzato in ingresso collegato nei segnali d'accordo il sensore di colore tutto il reparto magazzino questa che vedete a blu e che vedete è il compressore questa qua è la zona dell'elettrovalvole le segnalazioni la macchina cnc la fresatura la saldatura il carrello trasportatore il forno eccetera eccetera e qua che non si vede molto perché è nascosto dalle segnalazioni c'è il manipolatore vedete la scritta qua sopra il manipolatore però vedremo come funziona allora io salterei subito perché non abbiamo molto tempo a disposizione salterei subito la fase diciamo delle mutazioni manuali potrebbero comunque vediamo una al volo se entriamo nella sezione manuale della movimentazione ad esempio del braccio robotico noi possiamo andare in automatico in questo modo vedete che ogni comunque ogni sezione c'è sempre l'emergenza quando premo l'emergenza vedete ad esempio questa lampada io l'ho configurata per l'emergenza d'accordo e posso ad esempio ruotare il braccio notate che anche il ogni singolo movimento ha il alla sua segnalazione posso scendere con il braccio salire d'accordo posso uscire posso ruotare ancora e al momento ci posiziona mazzaro facendo un back to home qua mi sono riportato i valori e scusate le scritte e perché di solito è sempre stato configurato questo con pannello a nove pollici per stare dentro però vi motivi di webcam eccetera eccetera per questo webinar ho trasportato tutto il progetto fatto in un pannello di nove pollici in un pannello da 7 pollici per avere una visuale un po più piccolina del pannellino virtuale perché sennò non ci stavamo e allora alcune scritte sono un po diciamo sì non sono complete e questi sono i tre valori degli encoder perciò noi adesso per esempio prendiamo premiamo il back to home a un'altra cosa se vogliamo vedere possiamo anche manualmente attivare la ventosa prendiamo un pezzo attiviamo la ventosa e vediamo che il pezzo chiaramente rimane appiccicato alla ventosa ok adesso lo disancoriamo della ventosa così ok e facciamo un back to home del braccio perciò torniamo al punto di partenza vedete i valori degli encoder in lettura che scorrono ok questo fa capire che ogni sessione in ogni sessione è stata creata una movimentazione manuale adesso andiamo subito a delle diciamo a di funzionamento automatici ok scusatemi ok questo qua ad esempio del primo nastro della prima sessione qua possiamo avere ad esempio delle movimentazioni semplici ovvero partiamo proprio della più semplice poniamo il pezzo all'inizio del braccio della sessione così ok e la prima movimentazione diciamo una movimentazione diciamo semi automatica attivo questa sessione arriva andiamo in resettiamo il sistema andiamo in automatico d'accordo arriva qua e poi posso tornare indietro questa diciamo è una delle esperienze più semplici perciò vediamo già una movimentazione inseriamo ad esempio un temporizzatore per ritardare l'intervento della fotocellula ok perciò possiamo stabilire ad esempio un secondo di ritardo in questo modo attivare la sessione così in questo modo e il pezzo si fermerà un secondo dopo il rinnovamento della fotocellula vedete possiamo andare in una sessione automatica ad esempio tipo questa qua in cui avviamo arriva alla fine torna indietro e continua in maniera automatica finché non premo il pulsante di stop in ogni caso il ciclo si resetta sempre all'inizio possiamo creare sempre con studio temporizzatori tipo delle pause di mezzo secondo d'accordo tra quando arriviamo nelle fotocellule che determinano i limiti massimi della corsa in mezzo secondo d'accordo possiamo aumentare anche questo tempo tipo a un secondo e mezzo così in questo modo perciò arriverà aspetto un secondo e mezzo riparte e via dicendo perciò altre movimentazioni e infine quella che dicevo prima tramite un conto impulsi posso stabilire un certo numero di impulsi tipo ad esempio 12 così è attivo in questo modo scusatemi 12 ok enter è attivo il funzionamento e vediamo che il pezzo il nastro si farma dopo 12 impulsi perciò se a questo punto io inserisco un numero inferiore tipo 5 il pezzo torna indietro se inserisco un numero superiore a 5 che potrebbe essere ad esempio 15 questa volta il pezzo torna andare avanti in questo modo perciò qua sto già facendo un minimo di posizionamento e ho anticipato lo studio degli encoder d'accordo andiamo ad esempio sempre relativamente a questa sessione andiamo ad esempio vedere come sono le lavorazioni posso riportare intanto manualmente il pezzo all'inizio così ok e iniziamo a inserire sempre su questa sessione una prima lavorazione tipo la fresatura ad esempio con un certo numero di sequenze che potrebbero essere due d'accordo e un tempo di lavorazione che potrebbero essere un secondo perciò se io avvio questa sessione così arriverà alla fresatura si attiverà due lavorazioni da un secondo e poi il pezzo tornerà all'inizio stessa cosa posso fare ad esempio per quanto riguarda quella saldatura passiamo due due lavorazioni per un secondo e mezzo arriverà oltre vedremo adesso scatta l'apparato etropneumatico scende il cilindro e vengono fatte due saldature per 1500 millisecondi ovvero un secondo e mezzo posso combinare le due assieme ad esempio in questo modo con questa sessione che chiaramente ho già preparato in cui parte vengono fatte tre lavorazioni da un secondo e mezzo per quanto riguarda la fresatura e vengono fatte due lavorazioni per quanto riguarda la saldatura ok da un secondo e mezzo sempre bene massimo siamo proprio alla fine mancano veramente quattro minuti posso posso far vedere un'altra cosa oppure mancano proprio pochissimi minuti e poi abbiamo un altro evento quindi siamo proprio alla chiusura ok va bene bene posso scollegarmi beh ringrazio tutti dell'attenzione intanto e chiaramente tramite i canali dedicati per Campus Store se qualsiasi domanda qualsiasi cosa abbiate io sono a disposizione bezie a tutti amm di